bentornati al tavolo di gioco non perdiamo tempo oggi come vi dicevo farò un gameplay a due giocatori partiamo subito siamo con il nostro arciere girato dalla faccia un giocatore abbiamo la tana del drago e siamo al primo livello quindi prima cosa siccome siamo nella sala delle statue perdiamo 5 di tempo prima all'inizio di ogni piano quindi la prima cosa che dobbiamo fare è proprio questa perdiamo 5 di tempo 1 2 3 4 5 poi dopo cominciamo il nostro turno il nostro turno comincia sempre perdendo 2 di tempo usiamo l'azione per esplorare semplicemente ci consente di mettere fino a 4 fino ad avere 4 carte massimo coperte qua poi iniziamo un nuovo turno quindi perdiamo altri due di tempo per andare ad aprire una di queste porte io voglio girare questa qua vediamo di cosa si tratta andiamo ad affrontare quindi il muro di frecce io direi che scelgo scudo magico quindi perdo un tempo e lo faccio subito dopodiché vado a tirare i dadi però uso il mio talento perché vi ricordate che oltre che coprire 6 blu qua devo anche poi andare a coprire il 2 qua per le insidie quindi con due soli dadi che sono questi qua non penso di potercela fare quindi perdo altri due di tempo 1 e 1 2 tiro due dadi neri doppio 6 wow e ne tengo uno solo poi vado a tirare i due dadi blu 3 e 3 3 e 3 io sistemo il 6 sopra il 6 e quello è fatto e uno dei due 3 li sistemo invece qua sulle insidie e quindi il muro di frecce sconfitto io vado a sistemarlo sotto negli oggetti perché voglio un po più di potere magico ecco qua il dado nero chiaramente non è più il mio perché era frutto del mio talento eroico però ho acquisito un blu grazie a questo oggetto quindi ho 3 blu 3 viola e 2 gialli prossimo turno il turno inizia sempre scartando 2 io vado ad aprire questa porta qua questa porta qua è la melva bavosa che è difficoltà 3, 3 di esperienza su 4 quindi è abbastanza duretta però io ci voglio provare lo stesso uso di nuovo il talento eroico quindi scarto 2 prendo due dadi neri li tiro scarto l'uno e tengo il 3 e poi vado a tirare la mia pool di dadi li sistemo un attimo quindi 6 5 1 3 3 2 6 5 non è un tiro bruttissimo però andiamo a vedere io devo sistemare tutte queste caselle più mi dice che la sua abilità perdi un tempo per ogni uno tirato ne ho tirato uno e quindi vado a scartare una carta e poi andiamo a riempire prima abbiamo detto che dobbiamo partire dai numeri con lo scudo e questo è un po' un disastro perché il 5 mi tocca usare il nero vedete i blu allora io sistemerei il 3 qua il 5 qua il 6 qua dopodiché vado a sistemare il 6 sicuramente sul 6 il 5 sicuramente su uno di questi 4 qua che sono uguali mi rimane fuori un 4 e anche questo 3 qua che è giallo quindi io direi che sostituisco 2 3 viola con un 3 nero e quindi questo qui comunque lo copro mi rimane fuori questo qua però se vedete il talento del mio arciere cioè non il talento l'abilità se subisci una ferita sola e io ne subisco una sola vedete il 4 è rimasto aperto la eviti ma perdi un tempo quindi invece di prendere una ferita e un tempo perdo 2 di tempo quindi vado a perdere 2 di tempo per sconfiggere la melma pulisco tutti i dadi e questo qui diventa il mio io posso con questa abilità guadagno un 6 da usare questo non è male il problema è che non ho molte spadine gialle e ho già un oggetto quindi il massimo degli oggetti che posso ottenere se vedete è 1 un oggetto e due abilità quindi direi che questa qui io la metto in esperienza la metto qui sotto così nuovo turno come al solito scarto 2 prima di cominciare e vado ad aprire questa porta qua vediamo questo è un masso ok io direi che provo a fare questa qua sotto corri veloce si faccio questo qua da 14 usando la mia abilità quindi uso il mio talento eroico che scartando 2 mi fa tirare 2 dadi neri e tenere il risultato più alto tengo il 4 che è questo qua poi dopo devo tirare solo i dadi viola e io ne ho 3 quindi tiro i 3 dadi viola mi viene uno schivazzo non ce la faccio non ce la faccio perché devo fare 14 però devo coprire prima lo scudo da 2 delle insidie quindi se io metto il 2 qui 9 arrivo a 10 il sasso mi becca in fronte in poche parole infatti vedete che era comunque da 4 di esperienza quindi era bello forte quindi mi fa 4 ferite e perdo un tempo perdo subito un tempo prendo le 4 ferite su 5 quindi mi ha mezzo fatto secco e posso decidere di posso decidere che cosa farne io direi che uso la sua abilità che mi sembra veramente forte in qualunque momento cambia i valori di 1 o 2 dadi viola in neri mantenendone i valori fortissimo quindi la metto sotto come mia abilità iniziamo un nuovo turno quindi come al solito scarto 2 e vado ad aprire l'ultima porta l'ultima porta è un sassone gigante io non so se me la sento di andare a beccare sto qua non ho abbastanza dadi blu no questo lo lascio qua quindi in sostanza se lo lascio lì io vado a iniziare un nuovo turno scarto di nuovo 2 ed esploro quindi metto 4 porte coperte cioè fino a 4 poi dopo uso di nuovo 2 per entrare in una di queste e io apro questa qua andiamo a vedere che cos'è spettro ok avvistimento converte in oggetto lo facciamo? eh lo facciamo per forza avvistimento prima della sfida converte un oggetto in punti esperienza ok quindi prima della sfida io vado a convertire uno dei miei oggetti che è questo qua in punti esperienza quindi questo qui da 2 diventa va qua sotto e sono a 5 su 6 e poi dopo andiamo a provare di sconfiggerlo però prima della sfida vuol dire che io non ho più il dado in più che avevo qua quindi io direi che provo ad usare il talento occhio dell'aquila che mi fa tirare i soliti due dadi neri prendo il maggiore più vado a tirare due blu tre viola e due gialli vediamo che cosa succede questo lo prendiamo per buono questi qua invece li devo tirare beh ho fatto un buon tiro no? solo che degli uno li sistemo un attimo ma non penso che andrò lontano con questa mano anzi ci potremmo già quasi salutare qua vediamo un po' cosa ci chiede allora prima di tutto dobbiamo coprire un tre giallo qua ma ancora prima di farlo dobbiamo coprire gli scudi gli scudi io non ho la più pallida idea di come coprirli se non facendo 9 posso fare 5 6 7 8 9 ci arrivo al pelo qua 5 c'è l'altro scudo 5 giallo quindi uso la mia abilità cambia uno o due dadi viola in neri mantenendone i valori quindi io cambio questi due 5 e 1 viola in 5 e 1 neri a questo punto il nero che è tutti i colori può andare qua a questo punto io non ho idea di come evitare queste ferite qua non ne ho proprio idea quindi posso fare 3 lo metto qua e il 4 lo metto qua ma queste me le becco tutte quindi mi becco 3 ferite e un tempo prendo 3 ferite quindi 1,2,3 quello che posso fare è usarla a poste istantaneamente anche dopo aver ricevuto le ferite cioè anche contestualmente ma di pozioni ne ho solo una ricordate che se uso in combattimento curo solo 2 invece di 3 quindi la uso curo 2 3 e 2,5 io ho 5 punti vita quindi il nostro arciere ci saluta praticamente siamo stati sbattuti fuori fortissimo ancora prima che inizi qualunque cosa perché siamo ancora al primo piano e quindi siamo periti fortissimo al primo livello della Tana del Drago speravo davvero che fosse un tutorial più avvincente ma non voglio tagliare fuori al montaggio le scene insomma i tiri di dado cose di questo genere voglio che il tutorial cioè il gameplay sia il più realistico possibile avete visto anche quanto è difficile questo gioco e dovete anche considerare che la Tana del Drago è solo il primo ma poi abbiamo Dedalo del Minotauro che abbiamo la difficoltà vedete questi pallini 2 e 3 quindi questi due Scoglio del Lidra Terreno scivoloso perdi un extra all'inizio di ogni turno cioè all'inizio di ogni turno invece che perdere due perdiamo sempre tre Caverna dell'Oieti Venti Gelidi se le conseguenze della sfida includono tre perdite di tempo aggiungi un cuore Sepolcro del Lice Dedalo del Minotauro e così via quindi questo gioco è veramente è veramente una sfida io l'ho provato in più giocatori e devo dire che siamo riusciti con un po' meno difficoltà secondo me giocarlo da soli quindi un giocatore solo è più difficile bisogna stare veramente attenti alle scelte che si fanno cioè ad esempio combattere con questo mostro avrei potuto evitarlo bastava perdere due di tempo e aprire un'altra porta ho avuto anche dei tiri un po' sfortunati insomma è stata una serie di coincidenze avrei potuto giocare la pozione fuori turno quindi mi sarei curato di uno in più e sarei rimasto vivo ma me ne sono dimenticato e così ci sono morto io come al solito vi ringrazio per aver visto questo video e rimanete sul pezzo perché voglio dare un po' una mia opinione nel prossimo video di cosa ne penso di One Deck Dungeon di One Deck